un appuntamento con la nostra vetrina dell'auto ma soprattutto con ford stracciari e quindi raffaella stracciari ciao a tutti benvenuti nella nostra divisione usato chiamato spazio stracciari e adesso lascio la parola ad andrea che vi presenterà nel dettaglio tutto il nostro usato curatissimo ciao a tutti sono andrea e mi occupo di auto usate in ford stracciari più precisamente nello spazio stracciari oggi vi vorrei parlare della ford puma un'auto che possiamo trovare in versione ibrida con un motore 1125 cavalli la puma è una delle vetture del momento perché è bella accattivante ed è stata presentata nel 2019 con questa seconda versione perché la puma era degli anni 90 in ford potete trovare presso il nostro salone vetture con 20 30 40 50 mila chilometri a partire appunto dall'anno 2020 le vetture che trovate qui dentro sono vetture che hanno fatto parte del sistema di acquisto idea ford quindi sono state vendute da noi come auto nuove sono state utilizzate da una sola persona e poi riprese in carico dopo due tre o quattro anni questo perché il cliente del nuovo ha sempre un'auto nuova ogni due tre o quattro anni il cliente dell'usato invece le cerca le cerca da noi che siamo uno dei concessionari ford d'italia e le vendiamo con una carta d'identità perché perché sapendo a chi le abbiamo vendute e sapendo come le abbiamo trattate sappiamo anche come sono considerate che di tutte le auto che ritiriamo ogni mese solo l'otto massimo 10 per cento passa il test per poi essere rivendute al privato il resto passa per un'altra strada le vetture all'interno del salone sono così come le vedete ovvero come il cliente ce le ha consegnate le prepariamo solo per l'acquisto della persona che la vuole comprare ford puma versione st line abbiamo detto che a 45 mila chilometri viene proposta con una garanzia fino al 2028 la garanzia copre tutto meccanica elettronica centraline ed è emessa direttamente da ford in questo caso 18 mila 900 euro non vi piace la ford puma che è un crossover non c'è un problema mini suv ford ecosport in questo caso motore mille benzina 29 mila chilometri auto del 2021 proposta a 16 mila 900 euro non dimenticate la garanzia fino al 2028 anche qui solo per voi vi sentite il cuore sportivo volete la macchina bassa ford focus st line quindi una vettura con un assetto sportivo cerchi in lega da 17 pollici torniamo sul motore ibrido 36 mila 700 chilometri proposta a 19 mila 900 euro non dimentichiamoci la nostra famosa garanzia anche qui prestazioni al top e macchina sportiva alta percorrenza nostalgico del diesel non c'è problema ford focus 1500 diesel 120 cavalli anno 2022 chilometri percorsi 43 mila cambio automatico a otto rapporti anche questa dal nostro sistema idea ford pronta per ripartire avete visto la seat non spaventatevi dopo ce n'è anche per lei autocarro mezzo da lavoro mezzo da divertimento sei un taglialegna non ha importanza qualsiasi persona tu sia ford ranger in versione raptor motore 2213 cavalli cambio automatico chiaramente quattro ruote motrici in ford stracciari chilometro zero iva esposta aziendale affrettati non ti piace blu lo vuoi arancione wild track ma ti serve l'iva esposta ce l'abbiamo usato pronto per te e anche per il tuo leasing dal pick up al suv in un attimo ford kuga nelle versioni ibride e diesel le puoi trovare con cambio automatico o manuale vari modelli vari allestimenti per il diesel prezzi a partire da 18 mila 900 euro per la plugin prezzi a partire da 23 mila e 900 euro anche qui certificate garantite guida il futuro guida la plugin il suv è troppo grande per le tue esigenze torniamo alla ford puma in questo caso versione st line x che si differenzia dalla st line per il sistema bang olfusen il cerchio da 18 pollici e l'interno misto pelle la puoi trovare bianca con il sistema copilot ovvero gli aiuti alla guida abbiamo il cruise control adattivo la frenata d'emergenza in città il mantenimento carreggiata i sensori anteriori posteriori e la telecamera di parcheggio cosa volere di più in questo caso prezzi da 17 mila 900 euro per una versione del gennaio 2020 chiedi informazioni cuore sportivo ma con famiglia a carico non c'è problema ford focus versione st line station wagon la presentiamo con 52 mila chilometri motore ibrido versione mild hybrid 19 mila 900 euro e la nostra garanzia fino al 2027 o 105 mila chilometri anche qui cerchio da 17 assetto sportivo sensori anteriori e posteriori e guida sportiva voglia o necessità di spazio ford s max occasione del mese partiamo dal prezzo 17 mila 900 euro per una macchina cinque posti 2000 di cilindrata diesel con cambio manuale capacità di carico assoluta potete portare via tutto e farete contenta la moglie autovettura mezzo commerciale furgoncino chiamalo come ti pare ford courier capacità di carico anche qui molto buona motore diesel è tutto da sfruttare perché perché abbiamo un 2021 con soli 53 mila chilometri qui sicuramente troverai il tuo mezzo giusto viene a vederlo ha fatto la storia di ford ma ancora oggi la puoi guidare ford mondeo capacità di carico da ammiraglia in una station vegon full hybrid quindi una vettura che ti permette di avere i vantaggi del futuro ricordando la storia di ford la puoi trovare qui da ford stracciari in questo caso 2019 con 70 mila chilometri allestimento vignale ovvero il top che tu possa trovare interni in pelle sedili elettrici e quant'altro ci sia in una miraglia come la mondeo ma attenzione non ti basta vuoi guidare una sportiva eccola tre volumi nera sempre vignale anche qui disponibile da ford stracciari in versione full hybrid vuoi il suv ma lo vuoi in taglia da città non c'è problema ford eco sport bianco perla prezzo 15 mila 400 euro in versione titanium cosa vuol dire cerchi in lega sensori di parcheggio posteriori interno misto pelle clima automatico navigatore viva voce musica android auto apple carplay e frenata d'emergenza in città se sei distratto pensavate che avessimo un solo piano espositivo e invece no vi faccio vedere cosa trovate al primo piano signori ford fiesta ford eco sport ford puma tutti i colori disponibili vi piace bianca vi piace nera la volete rossa 30 mila chilometri 40 50 non c'è problema abbiamo vetture per tutti attenzione abbiamo anche una toyota in mezzo la potete acquistare chr in questo caso 42 mila chilometri ibrido automatico per uno stemma che chiaramente è sintomo di affidabilità toyota di venite a trovarci ford eco sport il suv da città versione active fascioni passa ruota perimetrali cerchi in lega ma guardate bene all'interno totalmente in pelle puma fiesta focus station vagon per la famiglia eco sport puma rossa puma nera e poi andiamo anche sulle vetture che non sono ford vi avevo detto che non avevamo uno non avevamo due e nemmeno tre ma bensì molto più spazio espositivo e adesso ve lo faccio vedere attraversiamo la strada e procediamo con le non ford lexus 100 per cento elettrica vettura che proponiamo con 13.500 chilometri del 2022 full optional solo batteria al pari della smart abiti in centro ti serve una macchina che sia in grado di soddisfare le tue esigenze ma che non sia grande eccola anche qui 100 per cento elettrica non ti piace non c'è problema possiamo continuare da questa parte troviamo 500 cabrio qualsiasi ragazza impazzirebbe guardate negli interni meravigliosa disponibile qui da noi citroen c1 city car ben 2000 chilometri percorsi è una vettura nuova 11.900 euro jaguar in questo caso 2004 ruote motrici puoi andare dove vuoi ed è qui disponibile al pari del 4x4 suzuki anche lei qui in ford stracciari pronta per rimetterle ruote in strada non ti piace non c'è problema abbiamo di tutto volvo v60 plug in ne abbiamo parlato e abbiamo detto che è il futuro e qui ce l'abbiamo in versione familiare quindi con tanta capacità di carico vuoi tornare al diesel 4x4 2150 cavalli indovina un po un tiguan a quanto 20.900 euro ed è tuo certificato garantito vuoi il suv lo vuoi iva esposta lo vuoi 4x4 bmw x3 2.190 cavalli disponibile qui per te a quanto 29.400 euro sempre in casa bmw ma con dello spazio bmw serie 2 active tourer allestimento business disponibile da ford stracciari anche qui selezionata garantita e con cambio automatico ma se decidi di ritornare all'ibrido abbiamo la lexus vuoi sapere quanti chilometri 21.780 vi ho parlato delle vetture vi ho parlato di cosa facciamo vi ho parlato di come le vendiamo ma non vi ho detto chi ci mette la faccia in tutto questo raffaella stracciari a cui lascio la parola grazie andrea e vi saluto tutti vi ringrazio e potrete tenere monitorato tutti i nuovi ingressi del nostro usato sul nostro sito che viene aggiornato quasi in tempo reale a presto e vi aspettiamo qui da noi per mostrarvi dal vivo tutte le nostre bellissime auto usate ma non usate grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti